Questa è una foto? No, ho ricominciato a riprenderti, perfetto. Cosa mangi, amore? Kinder cioccolato. Siamo pronti per la patenza, qualunque. Siamo pronti per la patenza. Siamo pronti per la patenza. Grazie a tutti. Anche oggi rifacciamo il ponte che ci porta alla parte continentale di Tromso. Che riferisci a messa a te? Guarda che vieni anche te, che bello ampio lo schermo. E questo è il panorama che si può apprezzare oggi, lungo il ponte. Noi oggi andremo lassù, sulla collina di Tromso, tramite una cabinovia che ci porterà in alto per vedere tutto il panorama di Tromso. Andiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.